Oggi inizia la campagna vaccinale Covid per la fascia d'età dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. I primi appuntamenti nel Lab dell'ospedale di Biela, dove proseguiranno dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano. E come in tutta Europa, ai bambini sarà somministrato il vaccino Pfizer con formula pediatrica, il cui richiamo è previsto a 21 giorni di distanza dalla prima dose. All'interno del Lab sarà dedicato un percorso prioritario per i bambini e per i loro accompagnatori e l'attività vaccinale sarà effettuata da un personale medico infermieristico dell'ASL di Biela, affiancato in alcune giornate dai pediatri di libera scelta. I genitori, tutori, dei minori che nell'anno hanno compiuto, compiranno 5 anni di età fino al compimento dei 12 anni, possono effettuare la preadesione sul portale Il Piemonte di vaccina. Il minore dovrà presentarsi all'appuntamento accompagnato da un genitore o da un tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e di consenso alla vaccinazione per il minore. L'autocertificazione e il consenso con un documento di identità dovranno essere consegnati per entrambi i genitori.